Pensava probabilmente di fare un buon affare l'acquisto di una borsa griffata Chanel a 1.500 euro. L'acquirente, una vicentina quarantenne, si è messa d'accordo con la venditrice, una signora di 40 anni di Piazzola sul Brenta, dalla quale aveva già fatto acquisti in precedenza. Appuntamento in città a Vicenza per l'acquisto. Tutto bene? Non proprio. Una volta a casa, l'acquirente viene a qualche dubbio sulla autenticità della borsa e la porta a far vedere in un negozio, che non fa che confermare i suoi sospetti, ovvero che si tratti di una borsa non originale. Al che chiede i soldi indietro, ma la risposta è negativa, da cui la decisione di denunciare il fatto ai carabinieri. I militari inviano le foto alla società Chanel Italia e il consulente tecnico conferma. La borsa, per caratteristiche tecniche, tipologie di materiali, assemblaggio e rifiniture, non rispecchia lo standard della mesonna. La quarantena di Piazzola è stata denunciata, ma si continua ad indagare.